Samsung offre una compensazione totale per le giacenze di magazzino dei fornitori del Galaxy Note 7, ritirato dalla produzione perché ha rischio esplosione. La multinazionale sudcoreana ha anche annunciato di voler completare in fretta i rimborsi perché molti rivenditori si ritrovano con i magazzini pieni di parti di ricambio inutilizzabili. Se per i rivenditori le perdite si aggireranno attorno al miliardo e 700 milioni di dollari, per Samsung il più grande fiasco della sua storia dovrebbe avere un costo di 5 miliardi e 300 milioni di dollari.